Cantare insieme è superare tutte le barriere, anche quella del carcere. Il coro polifonico papagheno, voluto da Claudio Abbado, è uno strumento di integrazione e per esprimere se stessi. Doriana Laraglia ci fa conoscere una realtà che ci rende tutti molto orgogliosi. Non mi sento un detenuto che sto dentro un carcere, mi sento che sono inserito dentro la società che mi è posto prendere anche un'altra possibilità nella mia vita per cambiare quello che è sbagliato. Non siamo nati in matricola noi, allora bisogna andare avanti. E la musica ti aiuta? La musica mi aiuta tantissimo. Cantare insieme è un'arte che diventa straordinaria se nasce dalla volontà. Voglia di andare oltre che i detenuti del carcere della Dozza di Bologna esprimono senza timore né pudore. Non danno l'impressione di cantare ma di scivolare sull'aria, proprio come faceva Claudio Abbado mentre dirigeva le sue orchestre e lui ad aver ideato il coro polifonico papagheno fra le tante eredità che il musicista ci ha lasciato e che l'associazione Mozart 2014 ha voluto fortemente tenere in vita. Ha un grande senso di integrazione, di vitalità all'interno del carcere tanto che chi non canta nel coro è onorato di avere il coro all'interno della Dozza. Bella sinergia tra l'associazione Mozart, un gruppo di volontari esterni che cantano in altri cori bolognesi e la direzione dell'istituto penale. Credo che sia veramente importante consentire appunto anche a chi è privato della libertà di non essere privato di altre cose. I detenuti sono contenti di fare questa attività? Sì, sono molto contenti, è un'esperienza significativa per tutti. La musica esce lieve dalla cappella della Dozza, percepiamo tutta la passione che i detenuti sentono a loro si chiede di solito di non esistere, anche grazie al canto riescono invece a vivere. C'è una differenza di passioni, di entusiasmi dentro e fuori? Credo che la passione sia una cosa che uno ha dentro, quindi se c'è si mantiene. Magari prima suonavo da solo qua, è una situazione diversa per cui è anche più divertente confrontarsi con tutti gli altri. La realtà invisibile dietro le sbarre diventa a Bologna un'esperienza di amicizia e di integrazione. Non conosco alcuni paesi, ma tramite loro canzoni saprò com'è la loro cultura, com'è il loro pensiero. Quindi per te è anche un fatto culturale? Sì, anche, perché nel loro canto dicono come vivono, come pensano. La mancanza di libertà è tra le prove più dure della vita. Lo hanno capito i coristi volontari che con regolare cadenza partecipano alle prove del coro della Dozza. Cerchiamo di portare aiuto intanto nel cantare, ma poi perché la partecipazione qui dell'umanità è bellissima e ci divertiamo tutti molto e si sente proprio quest'area di comunione. Credo che la cosa più bella è vedere quando vengono qua e cambiano. Proprio la loro mente si estranea e sono proprio concentrati sulla musica. Voi dati a loro, ma credo che anche loro diano molto a voi. Io credo proprio che siano più loro a dare a noi che noi a loro. Un progetto tanto desiderato da Claudio Abbado che credeva immensamente nel fare musica insieme. La voce è il mezzo di espressione umana del proprio interno, del proprio vissuto, della propria esperienza, della propria cultura, delle proprie emozioni. Non si sta soltanto cantando, si sta facendo qualcosa di molto alto, che è fare musica insieme, ma anche qualcosa che è più grande di noi.